Ciao ragazzi, sono Federico e benvenuti a LusterCatch YouTube Channel. In questo episodio vediamo due diverse jacket, la prima è da un nuovo italiano brand, PHP Leathers, è una jacket red lettera, la seconda è la Yeezy Season 3, una jacket shirling neon, la stessa da Gian Connors, nel Ranguish. Prima di tutto, a mell'altra, il PHP Leather Jacket, in questa bellissima blod red colorway. È una leather jacket, con un style Cafferazzer, come vedete, con un front zippero festeggiare, e un bellissimo handpainting, con questa giapponese-inspired geisha. È completamente linea in viscose, con un grafico all'interno, e poi vedremo come funziona, e zoom in sui dettagli. Allora, a mell'altra, questa Yeezy Season 3 Shirling Flag Jacket, è fatta di lambe e shirling, con un colore neon-yellow, ha cuffs, qui, e qui, sulle, e questo front plaket, per capire voi, per il vento e il vento in generale. Allora, vediamo un po' i giocatori, l'idea dietro di questo video, in questo video, in questo video, era fare due diverse giocatori, fatte di leather, con color di schifo, come potete vedere, il Signore di Dio, che è un neon-yellow, di Yeezy Shirling, e il sangue rosso, di P.H.P. Cafe Leather Jacket. Ora, 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 per cercare i dettagli, per questo Yeezy Shirling Jacket, di Season 3, vedete il colore, il zip che si è allo sotto, per la mano, il due ombre, e ora, ora, zoom in, sul colore. Come vedete, qui è il silver zippo, con una taglia di talon, il schirling è molto soft, ha una molto ristrazione, come vedete, è made di lamb's fur, qui è il hem, sulle le lezze, i suoi lezze, e i suoi lezze, qui sono lezze, qui sono lezze, che sono lezze, e poi, la parte, che è fatta di 4 leather panels. Ora è il momento per il secondo Jacket di questo episodio, il PHP Leather 1, in questo bellissimo bluod red, potete vedere il caffè racer style, con il colore, con il snap button, con il colore, con il fondo, dove la jacket, chiama, questo, questo, il modello che è il pietro, con le bianche, con le bianche, con le bianche, and some blood red flowers here we can see the zoom of this Japanese woman covered by pink red flowers here is the texture of the hand painting you can see up close the small crackles in the paint here near the roses, the flowers really beautiful also with this red sun on the right here we can see the sleeves which have a zipper fastening and then a snap button on top the zippers are made by a Cagni very sturdy, very smooth when you close them on or you open them and on the slider we see the P.E.K.P. logo on the inside we find a viscose line very smooth with some graphics printed on it here you can see there's another Japanese woman face on the inside and then a pocket in which we find the wash tags of this beautiful leather jacket still on the inside just below the collar there is this nice metal chain in a rusty color which is a nice little touch that adds even more luxury to this P.E.K.P. jacket here now I showcase you both jackets well worn on the left I'm wearing the P.E.K.P. unpainted cafe racer with an if 6 was 9 dyed shirt flannel H&M trousers and fear of god sneaker boots on the right a easy season 3 shearling with the Mazon Margila sweater H&M and fear of god still on the bottom as for sizing I recommend to stay true to size on both I went for an extra small on the P.E.K.P. leather and also an extra small on the shearling bikini west which still retains an oversize fit as intended on the runway the retail prices of both are for the P.E.K.P. leather 1.100€ and for the Yeezy Shirling 1.400€ I hope you guys enjoyed this video where I showcased you the P.E.K.P. leather jacket and this Yeezy Shirling leather jacket be sure to check the Instagram links and website links I dropped in the info box of my video and see you next time remember to share, like and subscribe cheers here's the shirt as you can see it's a very nice blue color with some kind of stonewashed on the front and lots of distressed details all over especially on the collar, the cuffs and the sleeves now let's zoom in to see the details up close the majority of the details in this Hero denim shirt are in the sleeves you can see here in the backs as you can see here the CAFs as you can see here the CAFs oh... for a당s Grazie.